Ciao Massimo Masiello, quest'anno con Lalla Esposito la straordinaria Lalla, attrice, cantante, strevitosa con l'idea, devo dire, di sfogliatelle e tante storie d'amore è stata tutta sua riportiamo questo spettacolo che ha avuto un discreto successo questo inverno anzi esattamente il settembre scorso quest'anno lo riproponiamo a Nocelle alle ore 21 a me Nocelle è il posto dove ho quasi deputato, dove ogni anno quasi mi esibisco il 30 luglio vi aspettiamo a Nocelle con sfogliatelle ed altre storie d'amore Grazie Grazie a te Ok Ok sì C'è anche il sì